Allora ragazzi se c'è una cosa che posso dirvi è prima di commentare questo video e fare le vostre considerazioni guardate attentamente questo video e vi dico che in descrizione c'è il link per il webinar gratuito che ci sarà il 10 ottobre il resto lo dirò nel video quindi mi raccomando guardate il video, fate le vostre considerazioni in base a quello che ovviamente vedete perché è importante Ciao ragazzi qua è Omega benvenuti in questo nuovo inattesissimo video che vi avevo ovviamente promesso perché chi mi segue da tanto si aspettava questo video mi avete in tantissimi bombardato su Instagram in questi mesi in questi anni dicendo Omega portaci un video del trading spiegaci la tua storia spiegaci tutto quello che sai spiegaci tutto quanto quindi sì perché non farlo in questo video ragazzi quindi sono tornato con questo video così vi spiegherò anche perché sono stato sempre assente perché ci sono stati dei problemi insomma in questo video vi spiegherò tutto quindi come detto anche nell'intro guardate il video tutto fino alla fine perché ci saranno belle cose in questo video molto interessanti da vedere come si è visto anche nell'intro quella sorta di bestia allucinante e ci saranno altre cose carine quindi guardate il video come detto in descrizione ci sarà il webinar gratuito a cui potrete accedere quindi non costa nulla andarlo a vedere quindi andatelo a vedere perché fidatevi ne vale la pena ve lo consiglia Omega il modder che come mi è stato anche attribuito da voi il miglior modder in Italia me lo avete attribuito voi quindi fidatevi ne vale la pena sapete che non sono una persona che dice bugie o che comunque si mette a truffare la gente quindi chiariamo chiudiamo e apriamo questa parentesi allora ragazzi io sono qui per raccontarvi più o meno la mia storia questo video ve lo dico non sarà molto statico cioè non sarà che sarò qui sulla schivania vi parlo 5 minuti dopo scendiamo giù che dobbiamo andare a prendere una bella cosa dal garage vi ho già spiegato una bella cosa perché sì dopo 7 anni mi sono convinto a uscire allo scoperto perché ora vi racconto la mia storia voi mi conoscete come Omega lo youtuber ok quindi mi avete visto alle fiere mi avete visto il giro ci siamo fatti le foto però in concomitanza nel 2014 quando ho iniziato youtube io ho iniziato a studiare e questa cosa non la sa quasi nessuno nemmeno gli amici miei stretti sapevano questa cosa ho iniziato a studiare quindi negli anni mentre facevo youtube quindi raggiungevo i traguardi di 50, 100, 200, 300, 400 miei iscritti attuali e vi ringrazio perché lo siamo e anzi apro un'altra parentesi e vi dico che comunque quando sarò libero perché comunque ora vedrete perché sono molto impegnato vi porterò anche dei video di GTA sicuramente perché voi siete la mia fanbase e io vi voglio bene e cercherò comunque di accontentarvi perché c'è anche una fetta di pubblico che voleva questo video e quindi vi ho accontentati stavo dicendo sono cresciuto molto nel tempo ho iniziato a operare nel trading ho iniziato a operare nel forex che è il mercato delle valute che magari alcuni di voi conosceranno altri no e ci sarà appunto come vi ho detto un webinar dove spiegherò tutto quanto, come funziona e tutto il resto che sarà gratuito troverete in descrizione cosa è successo ragazzi? che durante il tempo ho incominciato a studiare, ho incominciato a capire come funzionano i mercati ho cominciato a formarmi, a fare tantissimi corsi di formazione, a studiare tantissimo aspettate, guardate, ve lo faccio vedere al volo cioè per renderci conto ho iniziato a leggere una mole di libri allucinante che sono oltre 200 pagine l'uno e lì ne ho altri nella mia libreria, poi ve li faccio vedere prima che andiamo via quindi questo per farvi capire che mi sono veramente fatto un culone così e i miei risultati ovviamente si sono visti perché io negli anni ovviamente sono partito con le opzioni binarie che è uno strumento che ora in Italia non c'è più e poi mi sono spostato sul trading valutario che è attualmente quello che faccio ed è il mio lavoro ed è questo soprattutto di cui vivo perché mentre facevo lo youtuber, sì ok, avevo i miei guadagni però ragazzi ve lo dico chiaramente, cioè non ho preso la lingua, sapete come sono io? non era mai come quello che prendevo dal trading youtube per me era una passione, l'ho sempre detto ok c'erano dei soldi, va bene, riuscivo a farmi un'entrata in più ma per me youtube era una passione perché il mio vero lavoro è sempre stato questo dai 16 anni più o meno quindi perché ai 16 anni ho iniziato un po' a ingranare e allora la mia vita più o meno è questa qui ci sarebbero tante cose da dirvi comunque vorrei far vedere come funziona il trading come si applicano le mie strategie come si fa, tantissime cose che vorrei farvi vedere ma purtroppo non basterebbe nemmeno un'ora di video nemmeno 5 ore di video probabilmente ecco perché ho creato il webinar gratuito che trovate, vi ricordo, in descrizione che uscirà il 10 ottobre solo per chi si registra quindi in questo video vi farò vedere un attimino più o meno la mia postazione quello che ho ottenuto col trading ci sono diverse cose che comunque ho fatto in questi anni come ho detto ho fatto formazione ho fatto anche dei corsi ho fatto un sacco di robe come vi ho detto la dimostrazione vera e propria voi comunque ce l'avrete tra un po' aspettate che sto facendo un attimo l'accesso la dimostrazione avrete tra un po' quando il 10 ci sarà l'evento allora io guardate vi faccio vedere questa cosa poi mi dite voi, per esempio guardate questo qui è il mio settimanale di questa settimana dove ho totalizzato 8102 per la precisione ovviamente, ah la cosa più importante ragazzi scusate non è un conto demo come vedete è intestato a me, c'è scritto il mio nome c'è scritto Anthony, c'è scritto Live quindi non vi sto raccontando una cosa a perdere tempo o non vi sto raccontando qualcosa per cercare di fregarvi sto raccontando la verità dei fatti infatti poi, come detto, non basterebbero nemmeno 5 ore per spiegarvi tutto questo però vi posso dire che negli anni sono stati a togliermi diversi sfizi tipo magari un po' di cose che ho comprato di vestiti che qui c'è un sacco di ricevuto un sacco di cose che, vabbè io ve le faccio vedere ovviamente chi ci vuole credere ci crede però voglio dire i fatti parlano chiaro diverse cose sono andato in diversi posti ho fatto diverse cose tutto va ovviamente in maniera autonoma e c'è ovviamente anche gente che segue il percorso che sto facendo perché tra poco incontreremo una persona che vi farà vedere proprio i frutti di quello che sta facendo grazie a me quindi ci sono tante cose che meritano essere viste cioè ho detto guardate il video fino alla fine allora, questo per me lo conoscete è la postazione su cui lavoro scusate se ve la prendo così a telecamera faccio vedere meglio qui c'è ancora il mio classico cappello qui c'è la postazione e qui ci sono tutti i miei grafici per esempio io uso questa applicazione che si chiama TradingView e qui mi scorro tutti i grafici che analizzo giornalmente poi mi faccio le mie operazioni voi magari qui direte che cosa è questa? è una nuova lingua? io non capisco nulla però è una cosa che comunque imparrete nel tempo e che comunque come ho detto ci sarà webinar gratuito dove vi dirò gratis tutte queste cose qua diciamo che questa ormai è la mia passione poi qui abbiamo tutto il materiale che io vi ho detto che ho studiato continuando qui in questo armadio come vedete ci sono un sacco di libri che ho letto durante gli anni che ancora devo leggere ritornando a noi quindi io potrei spararvi 3000 screndi risultati come quello che vi ho fatto vedere ultimamente di questa settimana ve ne sparo altri però ovviamente uno magari può pensare che opero in demo perché me l'hanno detto un sacco di persone che opero a perda di tempo opero per sport però ovviamente i risultati si vedono le cose si vedono cioè quindi non è che uno gli cadono soli dal cielo quindi più che dirvi ragazzi guardate il video fino alla fine e cercate di fidarvi di me perché chi mi conosce da tanto sa che da per esempio su Instagram sui social pubblico queste cose dal 2016 dal 2017 quindi sa che non è una cosa accampata all'aria tra ieri e oggi ma è una cosa che dura negli anni infatti chi mi segue su Instagram e vi invito a seguirvi anthony.rossi-basso comunque vi lascio i link in descrizione sempre ci saranno contenuti esclusivi anche lì quindi vi invito a seguirmi anche su Instagram come dico sempre nei video perché questo è un mondo molto bello che se è iniziato da quando si è piccoli perché ho iniziato quando ero piccolo anzi io ho iniziato grande che avevo 16 anni ma se iniziate quando siete veramente piccoli 13-14 anni potete veramente sfondare veramente avere tantissime informazioni che poi potrebbero servirvi in un futuro ragazzi io ho detto questo ora mi vesto mi metto le scarpe e andremo a fare una cosa importante quindi venite con me perché fidatevi che ne vale veramente la pena perché tutto quello che vedete è frutto di 7-8 anni come prima cosa e soprattutto non è che io come ho iniziato sono stato bravo anch'io ho perso parecchio perché non avevo nessuno praticamente che mi sta vicino agli inizi magari dopo un po' più lassi però quello che voglio dirvi è che comunque mi sono impegnato anch'io ho avuto i miei momenti di down anch'io sono stato molto giù però come vedete i risultati si sono visti alcuni sapranno che a me piace collezionare vestiti assai perché mi piacciono tantissimo mi piace la moda mi piace proprio collezionarli qui ad esempio c'è la mia collezione di felpe di Supreme che mi piacciono tantissimo qui ci sono una serie di vestiti vari qui ci sono un paio di orologi di cui che mi piacciono tantissimo che mi sono tolto tipo lo sfizio per esempio qui c'è questo ragazzi altra cosa che voglio farvi vedere per chi mi conosce bene sa che sono molto innamorato di sneakers qui per esempio abbiamo l'ultima uscita le Travis Scott per Fragment qui ci sono le Jordan per Dior le Low che sono quelle che uso più di tutte qui ce ne stanno altre come vedete ma sono veramente tante qui sta un altro cassetto aspettate che ve le faccio vedere ci sono la sezione Air Force le Jordan per Dior quelle alte ora ve le faccio vedere insomma per chi è appassionato un po' conosce o comunque chi mi segue anche già su Instagram sa eccola la ragazza nostra è qui quindi ora saliamo che dobbiamo andare a incontrare un mio amico e vediamo vi farò vedere una cosa importante sul trading ragazzi perché comunque questa è frutto anche di quello ed è una cosa molto importante come ho fatto vedere tutti gli screen di prima valgono molto eccolo eccolo allora ragazzi qua abbiamo due miei amici uno che si chiama Francesco e uno che si chiama Paolo allora saremo brevi Francesco raccontaci tutto dato che comunque lo devi dire agli iscritti spiega un po' chi sei come ci siamo conosciuti ciao piacere sono Francesco sono un amico di Anthony conosciuto da qualche mese ed è un po' che mi sono appassionato a questo mondo del trading e grazie a lui e al suo corso sono riuscito a realizzare qualcosina in queste settimane fai vedere cosa hai portato questa è la mia macchina no fai vedere il quaderno imbecille non la macchina ecocentrico di merda ciao mi chiamo Paolo Trattarelli e ho incominciato più o meno questo percorso con Anthony qualche mesetto fa all'inizio ti devo essere sincero ero molto molto incerto con tutte le truffe che comunque si trovano al giorno d'ange online però mi sono un po' voluto fidare del suo metodo della sua strategia e posso dire che sono veramente soddisfatto grande Paolo allora ragazzi niente praticamente per farvela breve loro sono miei due amici che conosco comunque lui da un bel po' di tempo lui da poco che si sono appassionati a quello che faccio come vedete Francesco ha fatto un bel corso con me dove ha preso un sacco ma un sacco di appunti dove ha studiato sta studiando sto studiando ancora sta studiando ma la cosa incredibile è che Francesco oltre a studiare che ha fatto comunque metà corso fai vedere i tuoi risultati sul tuo telefono fai vedere che tu hai tutto il conto è reale sennò la gente pensa che noi il conto è reale è il mio conto questo è il suo conto ed è un conto reale Francesco a metà corso è riuscito a realizzare la bellezza di 381 euro questo mese però in totale 800 e ne ho prelevati ben 550 praticamente ragazzi i guadagnati sono 381 più 500 già prelevati perché 381 c'è nel conto 500 prelevati praticamente Francesco con metà corso ha già guadagnato la bellezza di più di 900 euro quindi ragazzi io quello che volevo farvi vedere era appunto questo le dimostrazioni e soprattutto le testimonianze di un ragazzo che già a metà corso sta praticamente spaccando bravo sei contento? sì sì sono contentissimo continueremo sempre meglio quindi ragazzi per farvela breve più o meno il percorso è questo questo è quello che volevo farvi vedere nel video più o meno il lifestyle quello che uno si può comprare quello che uno può fare quello che uno riesce a raggiungere come per esempio ha fatto Francesco pensate lui è a metà corso quindi non sa ancora tutto tutto quanto magari quello che gli sono riuscito a trasmettere è già avuto un ottimo risultato e questo è veramente incredibile veramente incredibile allora ragazzi io direi che il video è finito vi ho fatto vedere tutto quello che mi interessava farvi vedere in questo video vi ho spiegato tutto quello che volevo spiegarvi con le dovute dimostrazioni con tutti i risultati possibili immaginabili ora sta a voi se vorrete il 10 ottobre vi aspetto al training esclusivo link in descrizione dove potete registrarvi per anche voi avere delle informazioni gratis avrete la mia strategia avrete un paio di cose insieme a me perché lo faccio lo scoprirete molto presto ma vi assicuro che chi mi conosce bene sa che sono stato il miglior modero in Italia ho venduto più di 6.000 account moddati e non ho mai commesso un errore in vita mia e non intendo commetterlo a questo giro quindi seguite il webinar gratuito perché ne parla veramente la pena noi ci sentiamo al prossimo video e spero di avervi un attimino ampiato la mente e avervi fatto capire il perché sono scomparso per tutti questi mesi sì dai è il perché finalmente sono voluto uscire e l'ho scoperto dopo tanti anni qua è un mega che vi saluta noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video ciao 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 ciao